Delle donne, palla per Bonito, attenzione, Bonito arma al sinistro, che gol, Bonito, pazzesco! Stratto Kuzmanovic, Onasi, cerca la gran botta, rete incredibile, rete incredibile, fantastico gol di Onasi all'incrocio dei pali! Alla battuta a Miccio con il sinistro, nell'incrocio, che gol, meraviglioso, un gol pazzesco, Miccio, straordinario, 1-0 Real Siberia! Ricorsa breve, prova lui, rete, rete, che gol, sotto la trovezza, 2-0 Napoli, San Paolo impazzito! Quella punizione, Cerbone, fa fuori i padovani, Cerbone, di sinistro, palla che viene ribattuta, Cerbone! Ma cosa ha fatto? Matteo Cerbone, un'invenzione pazzesca! 2-1 Ambrosini, Ibrahimovic, il palleggio, la rovesciata, gol! Strepitoso da parte di Ibra, che porta in vantaggio il Milan! Palleggio, rovesciata e gol! Gol straordinario di Ibrahimovic, 1-0 per il Milan! Ibrahimovic, che ha dimostrato ancora una volta che, insomma, un giocatore può decidere davvero da solo le partite!